René Descartes, latinizzato in cartesius e italianizzato in cartesio, è uno dei massimi esponenti del razionalismo moderno. Della sua intera produzione il passo più ricordato è il cosiddetto cogito, testualmente cogito ergo summa, cioè penso dunque summa. Questo concetto si trova nelle ricerche filosofiche e nel discorso sul metodo, che è un test fondamentale in cui troviamo esposte le quattro regole della ricerca filosofica. Il discorso ha un carattere intimo, narrando in prima persona della vicenda intellettuale del filosofo e della ricerca di un sapere certo e fondato che non si è esposto a dubbi. Nelle meditazioni metafisiche, che hanno come obiettivo quello di liberarci dagli errori, dalle illusioni causate da una conoscenza basata sull'esperienza sensibile, entriamo in contatto con il dubbio inteso come metodo. Nella sua fondazione della scienza, Cartese vuole cancellare qualsiasi opinione esposta al dubbio, ponendosi dunque come obiettivo l'eliminazione dello scetticismo, ma utilizzandolo come verifica dei risultati ottenuti. Dopo questa operazione, qualsiasi credenza rimanga passibile di dubbio, verrà respinta come falsa. Ed è per questo che il dubbio cartesiano viene definito da metodico, iperbolico. Esistono però delle verità, delle certezze che possono resistere al dubbio, sono quelle più semplici e universali, prima fra tutte quelle matematiche. Per decretarne la verità è allora necessaria che queste certezze siano tali anche in una mente che possegga un grado di conoscenza più profondo di quell'umano. Insomma, ci avviso Cartesio potrebbe anche esistere un genio maligno che mi illude facendomi credere come sicure cose che in realtà non lo sono. La seconda meditazione muove da queste basi per trovare qualcosa di indubitabile. e quindi la mia esistenza è condizione del dubbio. Non potrei infatti dubitare se non esistessi e anche se dubitassi del dubbio stesso, questa operazione consisterebbe in un ulteriore dubbio che è dunque inagirabile. Appena leggiamo la costruzione io sono, io esisto, notiamo come possa sembrare diversa da penso dunque sono. In realtà il collegamento con il pensiero è subito sottolineato da Cartesio. Io sono, io esisto, questo è certo, per quanto tempo, in vero per quanto tempo, quanto penso. Bisogna sottolineare come il cogito non sia un sillogismo, una deduzione. Come sostiene Cartesio stesso nella risposta alle seconde obiezioni, si tratta piuttosto di una immediatizza, una conoscenza di per sé. Il cogito allora potrebbe essere tradotto con mio esperimento esistente nell'atto di pensare. La conclusione di questo percorso è che il cogito può rappresentare, a buon diritto, il primo principio su cui edificare la nuova scienza. Esso è infatti assimilato ad un assioma a una condizione di ragionamento della mente umana. Ma cosa dunque sono io? Una cosa che pensa? E che cos'è una cosa che pensa? È una cosa che dubita, che concepisce, che afferma, che nega, che vuole, che non vuole, che immagina anche e che sente. Io sono quindi una cosa che pensa, una res cogitans, una sostanza che insieme a quella estesa, res extensa, costituirà tutto il cosmo.